I carabinieri della compagnia di Cefalù in provincia di Palermo, insieme allo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e al nucleo cinofili del comando provinciale di Palermo, hanno eseguito 13 provvedimenti cautelari, 5 in carcere e 8 agli arresti domiciliari, disposti dal giudice per le indagini preliminari di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Maurizio De Lucia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, detenzione illegale di armi e spaccio di droga. Il provvedimento nasce da un'indagine durata due anni sulle famiglie di Cerda e Termini Merese appartenenti al mandamento di Caccamo e quelle di Campo Felice di Roccella e Collesano, rientranti in quello di San Mauro Castelverde. Nella notte il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Palermo ha azzerato i nuovi assetti mafiosi nel cuore delle Madonie. L'attività degli inquirenti ha permesso inoltre di svelare le decine richieste di pizzo rivolte a imprenditori dei settori immobiliare, agricolo e delle onoranze funebri. Il denaro incassato dalle estorsioni finanziava le casse dei clan.